Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Siamo proprio arrivati a giovedì 20 febbraio, giovedì grasso, l'ultimo giovedì di carnevale. E noi che cosa facciamo qui nella cucina di Valgrande? Ci prepariamo per le gran fitture di carnevale. Ovviamente friggeremo i nostri dolci, quindi troveremo i crostoli, le favette, i tortelli con il ripieno di budino piuttosto che con il ripieno di mostarda, così come era nella tradizione della mia famiglia. Almeno una volta durante il periodo di carnevale noi abbondavamo con la frittura ed è quello che voi, se arriverete qui a Valgrande durante questa settimana di carnevale, troverete nelle proposte dolci di Valgrande. Ovviamente per questo fine settimana però potrete trovare tutte le altre nostre preparazioni, quindi dalle paste realizzate in casa da noi con i condimenti di carne piuttosto che i condimenti di verdure, le nostre insalate autofrutta, quindi per chi fa la scelta vegetariana e poi le nostre carne di poellame abbinate alla polenta. Quindi se siete curiosi di provare i dolci di carnevale preparati da Monica qui nella cucina di Valgrande, invito a prenotare il vostro tavolo o a fare anche solamente una telefonata per soddisfare la vostra curiosità. Quindi vi aspetto per le prenotazioni seguendoci nella nostra pagina social o attraverso i contatti che seguirete nel sito. E buona frittura a tutti, ciao!